Tornano gli incontri in presenza per il percorso di coprogettazione Astag Noi il Centro, iniziati nel 2020 e poi interrotti dalla pandemia. Associazioni di categoria, comitati dei cittadini insieme all'amministrazione comunale riavvolgono il filo e tornano a trovare soluzioni condivise. In questo elenco c'è sicuramente il decoro urbano che contiene tanti argomenti, c'è sicuramente il tema della sicurezza urbana, che contiene elementi di possibilità per il comune di intervenire attraverso interventi di rigenerazione urbana ma nello stesso tempo riattivare la presenza dei cittadini in alcune zone e quindi promuovere eventi, iniziative. Nello stesso tempo lavorare anche sui temi della sicurezza e quindi sul controllo, mettere le telecamere, anche tutto il tema dei parcheggi. Quindi ci sono bisogni diversi, esigenze diverse da far convivere e quindi dobbiamo lavorare per fare delle scelte nei prossimi anni. Tra le priorità il nuovo regolamento dei Deore. Il comune di Prato ha un regolamento che risale a un centro storico che non esiste praticamente più e quindi c'è bisogno di rivederlo. Il percorso di coprogettazione che terminerà fino a anno è stato organizzato dall'agenzia POA che si è aggiudicato il bando di 22 mila euro. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di incrementare la qualità delle relazioni per incrementare la qualità delle reti che esistono sul territorio e che possono dare un contributo estremamente importante per intanto conoscere meglio il territorio, quali sono i problemi, ma poi in termini di progettazione.